Programma molto intenso per il Crown & Clown Festival del Sorriso di Monte San Giusto che dal 2005 si fa messaggero del valore universale e terapeutico della risata. E quest'anno l'evento, che dal 27 settembre andrà avanti fino al 4 ottobre, consegna un doppio premio, Clown nel Cuore, a Don Luigi Ciotti e ad Enrico Brignano per i loro impegni nel sociale. Siamo qui oggi a presentare questa manifestazione che è giunta all'undicesima edizione, il Crown & Clown Festival, che si terrà dal 27 settembre al 4 ottobre 2015. Una manifestazione ricca ed emozionale che comprende, oltre alla parte goliardica, spettacoli e via dicendo, formazione per clown dottori e la parte del sociale perché organizziamo progetti con le scuole e con le nostre case di riposo e situazioni un po' più difficili che abbiamo nel nostro territorio. Tantissimi ospiti, partendo da Don Luigi Ciotti, che verrà insegnato del premio Clown nel Cuore 2015, David Larible, il Clown dei Clown, un bravissimo clown a livello mondiale, che parteciperà al nostro Gran Galà della Risata il venerdì 2 ottobre, la ballerina Simona Zorri, che terrà appunto un workshop emozionale sempre sabato all'interno del Galizio Toresi Circus. Giornata conclusiva, piena di spettacoli durante tutta la giornata nelle varie piazzette del Centro Storico. Si concluderà con rimbalzi di gioia in un abbraccio che vale appunto ideato dal Renzo Stizza della Mau Band, con la consegna del secondo premio Clown nel Cuore 2015 a Enrico Brignano. Tornerà a farci visita giovedì 1 ottobre Enzo Iacchetti, quindi un'edizione sempre più ricca, vi aspettiamo. Tanti gli ospiti quindi di quella che ormai è diventata la Città del Sorriso, un vero e proprio brand a cui l'amministrazione comunale sta lavorando, per identificare la città in Italia e nel mondo. Allora, dal 27 settembre a 4 ottobre praticamente Monte San Giusto ospiterà, creerà l'undicesima edizione Clown in Clown Festival, un'iniziativa importante che porta la partecipazione dall'ente clown fino a tutta la cittadinanza, quindi per noi è una iniziativa importante e che va a comprendere una iniziativa più grande che noi crediamo come amministrazione che è la Città del Sorriso. La Città del Sorriso è un, vogliamo che diventi l'icona fondamentale che faccia riconoscere Monte San Giusto in giro in tutta Italia e anche fuori, per questo stiamo lavorando, abbiamo lavorato e presenteremo un logo, il logo Città del Sorriso, che sarà a disposizione di tutte le attività commerciali e imprenditoriali da affiggere sulla loro documentazione, sui loro prodotti, su quello che sia, proprio per far riconoscere Monte San Giusto come Città del Sorriso in giro per l'Italia.